Buonasera e bentrovati. Con occhio oltre la cronaca. Il nostro viaggio insieme forse questa sera ci farà sentire un po' in pericolo, tranquilli, nulla che possa avere a che fare con la nostra incolumità fisica, ma le storie che ascolteremo ci faranno davvero convincere del fatto che quando abbiamo tra le mani un cellulare, un computer, qualsiasi dispositivo digitale dobbiamo stare più che attenti. La parola d'ordine diventa di fidare, non fidarsi, ma soprattutto denunciare il prima possibile. Ecco perché. Grazie. Ho scoperto che si può scaricare la busta paga online. Davvero? Sì, direttamente dal sito della società. Non lo sapevo. Ottimo, grazie mille Carlo, lo faccio subito. Ci è mancherato il nostro indirizzo su Google Map. Se uno chiede a Google Map dove è l'associazione dei consumatori Robinhood, esce fuori il nome di un'altra associazione e un altro indirizzo. Qui siamo scomparsi di fatto. Io ero quel tipo di persona che quando sentivo queste cose dicevo mamma mia ma come si fa, cioè è impossibile cadere in queste truffe, cioè è assurdo. Eppure essendo io una persona meticolosa dico di stare attente a tutto, soprattutto quando si parla di web. E' riuscito a raggirare la persona e quindi a farsi fare un pagamento, un bonifico, una ricarica, eccetera, eccetera. E questo fenomeno è di questo momento. Solo io ne ho ricevuti tre di questi tipi di messaggi. Però bisogna fare attenzione perché le potenziali truffe sono sempre dietro l'angolo. Mi ha detto nonna io ho visto sul telefonino la tua casa ed è in vendita tramite tribunale. Lei così mi ha detto. C'è una regola non scritta ma che come tutte le regole non scritte si rivela essere la migliore. E' la regola d'oro. E' recita più o meno così. Ricordarsi che nessuno regala nulla. E' al di là delle feste comandate in cui è ben gradito ricevere un regalo per il resto della vita, soprattutto quando si ha a che fare con l'online e con il web. Dobbiamo ricordarci esattamente questo. E' la regola del nessuno ci regala nulla. E' la regola che ci può tutelare in maniera preventiva da un fenomeno che stando ai dati che ora ascolterete nel corso della puntata sta diventando per il numero delle persone coinvolte, per il numero delle persone vittime di truffa, un vero e proprio dramma sociale. Sì, purtroppo pensiamo che il truffato medio sia un soggetto di bassa cultura, però i nostri dati dicono una cosa diversa. Purtroppo le truffe online colpiscono tutti. La cosa che ci ha stupito come associazione è che per esempio la ricerca i dati tramite il famoso phishing che è questa lanciata in una rete per prendere i pesci. Questi pesci spesso sono soggetti che nella loro attività, sono ormai pensionati, ma nella loro attività hanno avuto una parte attiva nel settore bancario e assicurativo. Sembra così una beffa voluta da una divinità come legge del contrapasso nella truffa dei dati bancari. E quindi questo è un dato un po' particolare che la portò a segnalare per dare un po' di colore a questa intervista. Purtroppo è drammati perché, specialmente negli ultimi anni, si sta sviluppando tantissimo le truffe, specialmente quello online, dovuto anche al fatto che si è allargata la platea attraverso i nuovi apparati telefonici di soggetti che accedono ai servizi internet e di conseguenza anche a tutte le proposte che vengono fatte su questi siti. In questo ha inciso, secondo lei, la pandemia? La pandemia sicuramente ha inciso, anche perché in quel caso era più necessità, un'opportunità quella di rivolgersi alle acquisti online, non potendo chiaramente uscire. Sì, diciamo che sicuramente ha avuto anche il suo peso. Non c'è un dato univoco, nel senso che non c'è una fetta, una tipologia che prevale sulle altre. Chiaramente fatto poi eccezione per quanto riguarda le truffe mirate a alcuni soggetti, tipo gli anziani che hanno chiaramente una loro specificità, un loro target preciso. Quali sono le casistiche che le si presentano di più quando un consumatore ha truffato la contatta chiedendo l'aiuto? Allora, attualmente ci sono tantissime richieste per quanto riguarda una tipologia che è questa, gli acquisti online di prodotti che vengono reclamizzati, vengono spediti in contrassegno, uno paga il contrassegno e poi all'interno del contenitore non c'è quello che è stato richiesto, non ci sono riferimenti quindi soggetti ai quali poter poi andare a restituire e chiedere le somme oppure il prodotto che si era richiesto e questi diciamo ormai io penso anche se si intervistano i corrieri penso che siano una delle truffe più ricorrenti anche perché in genere il costo è contenuto quindi uno rischia poco e rischiando poco diciamo è più facile caderci. Rischia poco e quindi è più facile caderci. Lo dice Pasquale Di Ferdinando come avete ascoltato che il referente dell'Associazione dei consumatori Robin Hood di Teramo che raccoglie ogni giorno tutto l'anno tutta una serie di denunce da parte di terramani truffati. Nel 2023 sono stati 91 le persone truffate a Teramo e provincia e nella tabella che vedete dietro di me possiamo ripilogare le tipologie più diffuse delle truffe denunciate all'Associazione Robin Hood. Abbiamo la truffa legata all'affitto di casa vacanze, quella dei contratti d'energia, la truffa delle criptovalute, le truffe legate agli acquisti online su piattaforme legate appunto ai social e poi l'intramontabile truffa delle poste pay. Il fenomeno delle truffe online inevitabilmente anche se c'era prima è esploso durante la pandemia quando le attività commerciali si sono trasformate in punti e-commerce, quando si stava chiuso in casa e si acquistavano anche i beni di prima necessità chiaramente tramite il web. A quel punto è successo di tutto, i truffatori si sono moltiplicati, si sono specializzati, si sono specializzati anche nel perfezionare le tipologie di truffe online contro cui ogni giorno lottano per consegnare i responsabili del web criminale alla giustizia, gli uomini e le donne della Polizia Postale. L'Abruzzo diciamo che comunque nonostante nel corso degli anni noi abbiamo cercato e continuiamo a cercare di fare prevenzione attraverso la partecipazione a convegni, incontri nelle scuole, su tutte le materie che trattiamo. Tuttavia nonostante questo comunque i fenomeni legati alla consumazione, alla commissione dei reati informatici comunque è un fenomeno che trova sempre rispondenza, nel senso che comunque continuiamo a verificare che comunque i reati informatici vengono commessi, quindi comunque ci sono le vittime, comunque riceviamo denunce, comunque abbiamo un lavoro che nel corso degli anni è andato aumentando. Aumentano anche i reati. E aumentano anche i reati, sì, aumentano anche i reati, ma questo è legato principalmente all'utilizzo sempre più massiccio che gli utenti fanno della rete internet. Durante il periodo del Covid, se vogliamo fermarci al periodo del lockdown, purtroppo abbiamo visto un aumento di quella che è la cosiddetta truffa sentimentale. È un tipo di truffa molto suddolo che ha colpito soprattutto le persone che magari avevano problemi già, problemi di solitudine e problemi che chiaramente sono aumentati nel momento in cui la socializzazione è stata completamente azzerata. E in quel periodo abbiamo preso molte denunce relativamente a questo fenomeno. La truffa sentimentale è una truffa che praticamente si articolava con uno schema ben preciso per cui le vittime venivano adescate attraverso social network oppure attraverso social network venivano sostanzialmente contattate da qualcuno che si fingeva essere un ufficiale dell'esercito statunitense di stanza in un paese europeo oppure in un paese asiatico e quindi un ufficiale e quindi chiaramente venivano adescate appunto delle persone di sesso femminile magari di una fascia d'età che potremmo individuare tra i 45 e i 65 e quindi attraverso questi messaggi poi iniziava così una sorta di relazione virtuale e fin quando poi appunto queste persone venivano indotte a fare dei versamenti di denaro con le scuse più, con le motivazioni più possiamo dire, fantasiose. Magari il cosiddetto ufficiale dell'esercito statunitense adduceva motivi di salute di un proprio familiare, di una figlia, di un genitore oppure con la promessa che prima o poi si sarebbero incontrati e quindi che prima o poi avrebbe fatto questo viaggio in Italia magari chiedeva il pagamento del biglietto aereo, poi magari questo biglietto andava perduto e quindi veniva chiesto nuovamente una somma per pagare un ulteriore biglietto aereo eccetera eccetera. Quindi certo, questi erano, diciamo, sono dei fenomeni che magari vanno avanti nel tempo, chiaramente questa sorta di relazione virtuale, le richieste di denaro chiaramente sono molteplici e spesso la vittima prima di rendersi conto che era incappata in una situazione truffaldina, insomma ci metteva un po' di tempo e quindi chiaramente più era maggiore il tempo e più aumentava la somma che poi veniva versata perché magari venivano fatti più versamenti a seguito di più richieste, di più richieste. Fin quando poi appunto c'era o una sorta, un momento in cui la persona si rendeva conto che qualcosa non quadrava oppure ci arrivava l'intervento magari di un familiare, di un figlio, di una figlia che vedendo depavorato il conto del genitore in banca cominciava a chiedere informazioni e quindi veniva svelata tutta questa realtà. La persona truffata soprattutto perché poi c'è un investimento emotivo nella truffa sentimentale se quello si gioca. Sì sì, la truffa sentimentale diciamo è una forma di truffa molto subdaro proprio perché si gioca molto sui sentimenti delle vittime. La vittima ha anche difficoltà magari a denunciare per imbarazzo, vergogna? Sì, per imbarazzo e vergogna e soprattutto noi abbiamo registrato spesso che quando c'è stato l'intervento dei familiari non sempre loro erano convinti di essere stati truffati. Cioè loro hanno sporto denuncia su pressione del familiare però nella verbalizzazione della denuncia ci si rendeva conto che questa convinzione ancora non era maturata nei loro momenti. Il panorama delle truffe è un panorama molto molto ampio. Stando ai dati fornitici dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale che ha il suo quartier generale a Pescara in via Ravenna 8 e da qui coordina tutte le attività delle sedi periferiche, le truffe nel 2023 sono state più di 800 tra quelle online e le frodi online. A Teramo sono state in tutto 78, 33 sono state le frodi informatiche. Le persone denunciate a Teramo sono state 46, in tutto Abruzzo quasi 160. Tra le truffe intramontabili quelle del pacco fantasma si fa un acquisto online, si paga ma nel pacco non si trova l'articolo richiesto. Questa acquida di 1800 euro è quella riferita a un motore dell'auto, non un motore come moto che in pratica non è mai arrivato, si è fatto il bonifico. Una delle caratteristiche di queste truffe in genere sono i bonifici che vanno o in paesi esteri o a persone, pur essendo reclamizzato il sito come un sito commerciale, a persone fisiche. Quindi questo è uno dei segnali di allarme. Ecco, vogliamo dare quindi delle dritte? Delle dritte, niente, verificare i soggetti che vendono queste cose. Quindi in pratica se la ditta esiste, se il numero di telefono corrisponde a un soggetto che esiste, se le mail corrispondono a un soggetto che esiste, l'IPM a chi corrisponde, cioè avere un quadro completo del soggetto con cui ci si interfaccia. Noi adesso dico una cosa che può sembrare un po' fuori luogo. Noi riteniamo che comunque il commerciante di prossimità sia quello che poi ci soddisfa al meglio perché intanto abbiamo una contezza del prodotto diretto e poi abbiamo qualcuno con cui ci possiamo interfacciare laddove ci sono problemi. Quindi lo sviluppo di questo mercato globale e elettronico porta i vantaggi che molte volte non corrispondono poi al beneficio reale, nel senso che molte volte per risparmiare 10 Euro poi magari si rischia di buttarne molti di più. Adesso per esempio le ultime news sono quelle dei biglietti ferroari falsi oppure del codice è quel cod che in pratica è falsificato perché uno pensa di prendere i dati e poi dà dei dati, va per prendere e poi i dati vengono presi e quindi anche lì massima cautela su dove si vanno a leggere questi codici. Poi c'è la truffa adesso d'eccellenza da diversi anni, ormai è un life motivo specialmente in periodi di vacanze natalizi come quelli che stiamo per vivere che sono gli appartamenti, gli alberghi, i voli che non ci sono. Chiaramente se ci si rivolge a strutture che già esistono da tempo consolidate è chiaro che diciamo la truffa è più difficile beccarla insomma. Molti cittadini si rivolgono alla rete internet per acquistare bene e servizi, soprattutto in questo periodo di vacanze in cui la rete può dare possibilità di fare degli acquisti di pacchetti casa e vacanza anche con un grande risparmio. Però bisogna fare attenzione perché le potenziali truffe sono sempre dietro l'angolo e per questo motivo la Polizia Postale delle Comunicazioni insieme al portale Airbnb ad alto consumo ha stilato una piccola semplice guida da seguire per non incappare in truffe di malintenzione. Nella guida è riportata sia il profilo del truffatore che i consigli utili per non incorrere in potenziali truffe. In particolare uno dei profili del truffatore è il cosiddetto cervello in fuga che si è dovuto trasferirlo all'estero per motivi di lavoro, ci chiede tutti quanti una serie di documenti personali per il contratto e in ultimo ci chiede il bonifico internazionale. Così come ad esempio l'esperto informatico che invece al contrario ci dice di continuare la trattativa al di fuori della piattaforma perché in questo modo ci fa risparmiare, anzi al contrario ci propone anche un bello sconto, cosa assolutamente da non fare perché è il preludio a una vera e propria truffa. L'altro aspetto è quello del compare che inserisce degli annunci sui portali, sulle piattaforme senza che vi siano recensioni o che addirittura è un soggetto che si è appena iscritto, quindi questo deve farci subito insospettire. E che cosa c'è da dire? Che il truffatore è una persona educatissima, molto cordiale, sempre disponibile e che non disdegna da strizzarci l'occhio fino a quando non ci chiede il bonifico. Una volta effettuato il bonifico scompare in un assordante silenzio fino a quando non trova un'altra vittima. Quindi fate assolutamente molta attenzione incrociando tutti quanti i dati e se avete qualche dubbio potete rivolgervi al commissariato dps.it che è il portale della polizia postale per chiedere tutte le informazioni necessarie per acquistare in sicurezza. In Abruzzo sono decine ogni anno le denunce fatte da persone che hanno prenotato una vacanza rivelatasi fantasma o hanno affittato case vacanza rivelatasi case fantasma. Insieme alla truffa del pacco che arriva vuoto oppure con articoli completamente diversi da quelli acquistati, la truffa delle case vacanza è una delle truffe più in voga in Abruzzo e anche in provincia di Teramo. Ma poi succede, come la storia che adesso vi raccontiamo, che ci sono terramani che si ritrovano con la propria casa, la casa in cui vivono messa in vendita online senza saperne nulla. Signora Filomena, la sua casa è in vendita per caso? Io l'ho scoperto tramite una telefonata di mia nipote. Cosa le ha detto? Mi ha detto, nonna io ho visto sul telefonino la tua casa ed è in vendita tramite tribunale, lei così mi ha detto. Poi avete approfondito e cosa è emerso? Adesso ti mando le foto e mi ha mandato queste foto e ho visto veramente la mia casa. Cosa ha pensato quando ha visto quello che ha girato sua nipote? Beh, ho detto forse mi stanno facendo uno scherzo. Non capivo. Poi però ragionandoci su ho visto che effettivamente c'erano tutte le descrizioni sia della mia casa che... Comunque io quattro giorni fa hanno suonato al campanello e ho risposto e c'era un signore al cangello che mi diceva signora scusi dov'è qui quella casa che si vende? Perché io ho risposto non lo so, io abito qui però non so. Evidentemente era un signore che aveva riconosciuto. Aveva visto, sì, aveva visto pure la casa. Su questo sito compaiono anche dei prezzi, no? A base d'asta. 41.250. Lei è davanti alla sede del distaccamento di Teramo della Polizia Postale perché vuole che la foto della sua casa scompaia il prima possibile da quel sito. Completamente dal sito, sì. Anche per non indurre in qualche equivoco potenziali acquirenti. Certo, ma anche arrivano, suonano, disturbano. Atteso che la signora non vende la casa, si sottintende che sotto c'è una truffa. Quindi evidentemente coloro che vengono chiamati da questo sito per poi vendere questa casa chiederanno un anticipo, non so, qualche finalità c'è che è truffaldina. Per cui con la denuncia della signora, oltre a poter fare questa richiesta di chiusura, diciamo questo profilo sul sito di questa società, soprattutto tuteliamo eventuali potenziali acquirenti che sicuramente incapperebbero in una truffa. Anche perché, come ci ha raccontato la signora, è fatto che qualcuno alcuni giorni fa abbia già citofonato a quel civico. È una comprova che questo meccanismo funziona. Poi sappiamo che attualmente sono tantissime queste truffe di appartamenti di vacanza che si affittano, si vendono e poi non esistono. Non esistono. Oppure viaggi e così via. Quindi è una truffa consolidata. Si può tutelare soltanto presentando una denuncia alla Polizia Postale? Bisogna per forse presentare una denuncia perché il sito, giustamente, chi gestisce il sito dice che noi abbiamo fatto questa cosa sulla base di un'istanza che riteniamo legittima e per farla diventare legittima abbiamo bisogno che qualcuno certifichi e quindi in questo caso la Polizia Postale c'è questa truffa chiera. È un'immagine bruttissima vedere una casa che sta in vendita tramite il tribunale. Dici ma che è successo? Per chi la conosce chiaramente. Per chi mi conosce, certo. Chiaramente una volta svolto l'intaglio, sapendo chi è che poi ha pubblicato queste foto, chiederemo l'esercimento dei danni perché c'è un danno in immagine non di poco conto. Questo è molto importante perché è una truffa che sta andando molto in questo periodo ed è quella legata al messaggio che si riceve su WhatsApp, per cui il messaggio più o meno è di questo tenore. Ciao mamma, ho perso il telefono, oppure ciao mamma, ho perso documenti, portafoglio, ho rotto il telefono, chiamami su questo numero, oppure mandami un messaggio su questo numero. Nel momento in cui si casca in questa sorta di tranello, dall'altra parte comunque c'è qualcuno che risponde, che è capace di raggirare la persona in modo da fargli credere che effettivamente il figlio o il nipote o comunque un familiare che si trova in difficoltà e poi alla fine sostanzialmente scatta la richiesta della somma di denaro e quindi si fanno pagamenti, salvo poi rendersi conto che in realtà non era né il figlio né il nipote ma era qualcuno che aveva finto di essere il familiare e è riuscito a raggirare la persona e quindi a farsi fare un pagamento, un bonifico, una ricarica eccetera eccetera. Questo fenomeno è di questo momento, solo io ne ho ricevuti tre di questi tipi di messaggi perché questi messaggi vengono mandati random, cioè queste persone sostanzialmente hanno a disposizione tutta una serie di utenze telefoniche perché tanto i nostri dati sono in rete per cui le nostre utenze si trovano facilmente, mandano un messaggio di questo genere a un numero indeterminato di utenti, tra questi utenti ci sarà qualcuno che comunque risponde che qualcuno è comunque a bocca e quindi paga e quindi questa è la truffa del momento. Il truffatore che usa i metodi della comunicazione per raggirare qualcuno in realtà non studia possiamo dire la vittima, cioè punta sulla quantità e prima o poi qualcuno ci casca. Sì sì sì, in questi casi si punta sulla quantità, infatti i messaggi che vengono mandati sono messaggi che vengono mandati ad un numero indeterminato di numerazioni telefoniche e qualcuno ci cade e questo noi lo vediamo anche dalle denunce che prendiamo, dalle denunce che poi prendiamo nel nostro ufficio denunce. Come stiamo vedendo insieme di truffe online davvero ce ne sono una marea, come ci ha ricordato, ci sta dettagliando la dottoressa Caruli, il commissario capo della Polizia Postale di Pescara, quando si tratta di web i truffatori non guardano in faccia a nessuno, i truffatori puntano sulla quantità, pescano nel mucchio. Quella che ascolterete adesso è la storia di una ragazza, una donna, una giovane donna, teramana in gamba, molto sveglia, particolarmente meticolosa nella vita, un'imprenditrice visto che è contitolare con il marito di un'avviatissima attività commerciale. Insomma, vedendo questa giovane donna non immaginereste mai che potrebbe farsi letteralmente fregare da qualcuno. E invece? In pratica ad agosto ho messo in vendita su subito.it una cameretta, sono stata contattata da un possibile acquirendo che era interessato. Telefonicamente? Tramite la piattaforma. Io sinceramente era la prima volta, mi ero iscritta proprio dieci minuti prima. Per vendere la cameretta? La cameretta. Per il prezzo di? 800 euro. Mi ha contattato subitissimo che era uno che nell'ambito rivendeva, comprava e rivendeva, quindi era subito interessato e voleva comprarla a breve termine. Ci siamo messi d'accordo che mi avrebbe fatto un bonifico istantaneo. Io, ignorante in materia, ho chiesto cosa dovevo fare e lui mi ha detto guarda, recati verso uno sportello e poi mi chiami. Il giorno dopo? Sei nel bancario? Postale. Postale, perché tramite PostePay veniva fatto. Quindi recata le poste, l'ho chiamato, siamo messi a parlare tutto e mi sono ritrovata a fargli delle ricariche PostePay a suo favore di 175 euro l'una per un totale di 530 euro. Io nel mentre mi rendevo conto che lui mi stava truffando e mi stava togliendo i soldi sul conto e io gli dicevo infatti guarda mi stai togliendo i soldi, mi stai scaricando il conto ma nonostante tutto continuavo a fargli questi bonifici. Lui in pratica mi aveva detto che mi avrebbe fatto lui un bonifico istantaneo a me non sapendo come funzionava mi ha detto che gli avrei dovuto fare io dei passaggi di soldi e poi lui alla fine li avrebbe restituiti a me con un'operazione, con una sorta di codice che mi avrebbe ridato indietro tutti i soldi. Io, ignorante in materia, mi sono fidata. Però ripeto, mi sono resa subito conto che la cosa non era normale ma come una sorta di imbambolamento. Questo accade davanti a uno sportellista. Sì, con gente anche dietro, sì, che mi vedeva comunque in difficoltà. Ti hanno visto in difficoltà, ti hanno visto anche urlare al telefono tu mi stai svuotando il conto perché tu ti rendevi conto che dalla posta e testa arrivano questi soldi. Esatto, sì, sì, come no, perché comunque sul telefono arriva il messaggino che dice esatto, soldi in uscita. Nonostante tutto, nonostante io a lui dicessi mi stai svuotando il conto... E poi cosa succede? Poi succede che a un certo punto le poste, come ho saputo dopo, mi hanno bloccato il conto perché hanno visto dei movimenti particolari, dei movimenti non normali, uno dietro l'altro, tre bonifici, se ne sono accorti subito. Mi hanno bloccato il conto, quindi al quarto bonifico di 175 euro, che poi è la somma massima che si può fare, non andandomi più lo sportello, ho preso il telefono per proseguire sul telefono. Quindi mi sono dallo sportello spostata verso la macchina di mio marito. Mio marito, vedendomi in difficoltà perché io mi preoccupavo del fatto che non riuscivo ancora a dargli dei soldi, mi ha detto scusami ma che stai facendo? Non ti rendi conto che ti sta truffando? Dall'altra parte, lui sentendo queste parole, mi ha subito richiuso il telefono. E in quel momento è stato come se mi svegliassi, sono entrata nel panico, pianto, non mi ricordavo nome, cognome, cosa avevo fatto, non mi ricordavo assolutamente niente, come se una sorta di ipnosi. Ho voluto, guarda, è stata una mezza giornata rendermi conto di quello che era successo. Non ti capacitavi come potessi averti convinto. Esatto, anche perché sono... L'azione giusta per poterti poi sbloccare la ricezione. Esatto, anche perché sono una persona abbastanza meticolosa in tutto, sto attenta in tutto e tuttora, cioè, c'è voluto un po' di tempo per capacitarmi di questa cosa, però la testa... È una sentita mortificata. Ma assolutamente sì, ma più che altro non mi capacito di come la testa possa arrivare a fare determinate cose, cioè, niente, lui, quando io, no, guarda, io adesso nemmeno mi ricordo, mi ricordo che quando io gli dicevo, guarda, mi stai svuotando il conto, lui mi diceva, guarda, non ti preoccupare perché tanto alla fine questi soldi con l'operazione del codice di sblocco io te li rimando tutti indietro e la testa mi diceva che mi dovevo fidare di quello che mi diceva. Cioè per te quello che ti diceva era credibile? Stranamente sì. Poste Italiane interviene bloccandoti il conto, Poste Italiane ti chiama anche? Poste Italiane di sua spontanea volontà mi chiama perché io, mio marito mi fa tanto non puoi fare niente perché comunque di tua spontanea volontà l'hai fatto, ho chiamato un mio amico poliziotto che mi ha detto la stessa cosa, dice guarda le hai fatti tu, quindi molto difficile che... Mentre mi recavo alle poste di Cambri per chiedere informazioni su quello che dovevo fare, sono stata contattata dall'ufficio antitruffa di Torino, una signora tra l'altro di Poste Italiane, sì sì sì, una signora gentilissima che mi ha dato le credenziali e tutto perché sai io ho detto forse sarà pure un'altra truffa perché come mi fanno a chiamare a sapere, però lei le credenziali, il numero di conto insomma, abbiamo verificato pure tramite le poste che era esatto e mi ha detto che potevo stare tranquilla perché loro avevano visto queste anomalie, avevano bloccato le operazioni, avevano bloccato i soldi quindi il truffatore non le aveva presi, io avrei dovuto fare una denuncia ai carabinieri, una denuncia alle poste, scrivere, mi ha dato delle informazioni da scrivere, a 60 giorni dalla denuncia avrei ripreso i soldi, però tuttora... Poste Italiane si comporta alla perfezione, si accorge subito dei movimenti sospetti, blocca le operazioni di Alessandra e le conferma che quei tre bonifici istantanei da 175 euro ciascuno per un totale di 530 euro non sono mai arrivati sul conto del truffatore, nonostante la denuncia presentata però quei 530 euro non sono neanche ancora mai tornati nella disponibilità di Alessandra. Loro dicono che le ho fatti di mia spontanea volontà ai movimenti, quindi loro non possono farci niente, ma il problema è che loro mi hanno contattato per dirmi che questi soldi erano bloccati sul conto mio in attesa di denuncia per restituirmeli perché comunque il truffatore non erano andati. Alla mia domanda, scusate ma quindi questi soldi lui non li ha presi, ve li tenete voi, io non ho avuto risposta. Ho mandato tre PEC, ogni volta con una scusa o con un'altra mi dicono che la mia domanda non può essere presa in considerazione perché mancano dei documenti, ma io li ho mandati tutti e arrivati al punto che proprio non mi hanno più risposti e quindi mi sono rivolta all'associazione Robin Hood. Sarà una conciliazione paritetica intentata con poste italiane dall'associazione Robin Hood a definire la vicenda. Fatto sta che quanto è accaduto ad Alessandra Buonasorte conferma che non bisogna mai fidarsi e soprattutto ribadisce un concetto base, siamo tutti potenziali truffati. Io ero quel tipo di persona che quando sentivo queste cose dicevo mamma mia ma come si fa, cioè è impossibile cadere in queste truffe, cioè è assurdo. Eppure essendo io una persona meticolosa dico di stare attendo a tutto, soprattutto quando si parla di web, perché comunque dopo quella truffa me ne sono capitate altre centomila, quindi come se fosse una sorta di collegamento tra le piastaforme. Tipo io poi ho riprovato a rimettere in vendita questa camera su Facebook, c'è un'applicazione esatto, delle truffe assurde del tipo siamo interessati però comunque ci devi fare una sorta di assicurazione per pagarci il trasporto. Poi quando veniamo comunque ti ridiamo i soldi, comunque c'è tutte queste cose assurde oppure di gente interessate all'estero che ti dice di dargli le credenziali e poi magari ti vogliono rubare qualcosa. Sì, ma pure da parte di poste mi sono arrivati dei messaggi che ti dicono di cambiare le credenziali, poi ci capiti una volta, quindi teoricamente ora sei un po' più chiamato poste dicendo guarda mi è arrivato questo messaggio, no sono truffe, cioè proprio è una cosa continua. E ci possono assolutamente capitare tutti, perché io non pensavo, eppure... è molto giovane. Io ho 42 anni, quindi... però non pensavo assolutamente ed è stato pure psicologicamente pesante riuscire a rendermi conto che comunque ci ero capitato pure io e che avevo sbagliato, perché comunque ti traumatizza, in un certo senso comunque ti traumatizza. La cameretta alla fine l'ho regalata, come volevo regalarla dall'inizio. Siamo tutti potenziali truffati fino a prova contraria. Avrete letto ed ascoltato nelle scorse settimane anche voi la notizia che si è diffusa anche oltre Alpe del commerciante pescarese vittima della cosiddetta truffa degli arrosticini. Il commerciante pescarese ha inviato ad un imprenditore del cantone di Berna in Svizzera ben 72 mila arrosticini dalla sua azienda in provincia di Pescara, ma i 27 mila euro che doveva ricevere non sono mai arrivati. I carabinieri dopo la denuncia hanno identificato l'imprenditore di origine abruzzesi che aveva ordinato ben 72 mila arrosticini con l'impegno di promuoverli sul territorio svizzero. Questa promessa insieme alla successiva creazione di pagine social per favorirne la distribuzione e pubblicizzare l'azienda di Civitella, ma anche l'origine abruzzese stessa e dell'uomo e i suoi modi cortesi hanno convinto il titolare dell'azienda civitellese ad intraprendere questa nuova collaborazione commerciale. I 72 mila arrosticini dovevano essere pagati in tre diverse tranche da 9 mila euro dall'imprenditore, il quale però, una volta ricevuta la merce, si è reso irreperibile. Nessun pagamento e nessuna risposta alle telefonate di chiarimenti. Vani anche i tentativi di una risoluzione bonaria della vicenda. I carabinieri, in stretta sinergia con l'ambasciata Italia e la polizia consolare di Berna, lo hanno identificato e ora è indagato per i reati di truffa e insolvenza fraudolenta. Degli arrosticini tuttora purtroppo però nessuna traccia. Sembrerebbe a questo punto quasi impossibile riuscire a difendersi e tutelarsi dalle truffe, ma guardate come ci siamo detti in qualche puntata fa, la puntata dedicata ai consigli per difendersi dalle truffe agli anziani, il metodo che abbiamo a disposizione è sempre lo stesso, le armi sono sempre quelle, prevenire e non fidarsi. Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che non bisogna comunque fidarsi assolutamente. Quelle che sono le accortezze che noi utilizziamo nella vita reale le dobbiamo utilizzare anche quando ci interfacciamo con la rete internet. Quando procediamo all'acquisto oppure vogliamo, che ne so, prenotare una casa per una vacanza, eccetera, eccetera, possiamo benissimo inizialmente fare delle ricerche su internet, sul nominativo che ci è stato dichiarato dalla persona che si trova dall'altra parte, oppure sul numero di telefono con il quale facciamo la trattativa. Queste ricerche, con qualsiasi motore di ricerca, possono essere fatte tranquillamente, perché i truffatori seriali comunque sono persone che comunque vivono delinquendo e di conseguenza se già hanno fatto un tipo di attività di questo genere è facile che noi troviamo dei feedback negativi che ne so, facendo un'interrogazione su un qualsiasi motore di ricerca, su quel nominativo, su quel numero di telefono. E allora scopriamo insieme i consigli della Polizia Postale per evitare il più possibile le truffe online. Se stiamo procedendo all'acquisto di un bene su un sito, dobbiamo stare attenti perché il sito potrebbe essere tranquillamente un sito farlocco, nel senso che noi siamo convinti di stare operando su un sito di un brand famoso, in realtà potremmo trovarci su un sito clone. E anche qui dobbiamo stare attenti perché abbiamo degli strumenti per fare delle verifiche. Basta tranquillamente vedere in questo caso qual è l'indirizzo, diciamo l'HTTP e quindi l'indirizzo, la URL del sito e ci rendiamo conto che siamo sul sito ufficiale se magari vediamo il lucchetto, è un simbolo in forma di lucchetto che ci dice che quel sito è un sito sicuro, magari inizia con HTTPS, c'è il lucchetto, quello è un sito sicuro. Se non vediamo il lucchetto già dobbiamo stare un pochino guardinghi. Dobbiamo per quanto riguarda le tuffe mai accettare di fare pagamenti su carte prepagate, quindi né bonifici né ricariche, ma utilizzare sempre Paypal. Paypal è una società di intermediazione finanziaria che è legata a Ebay, però la possiamo utilizzare tranquillamente anche se facciamo un acquisto con un privato. E in quanto società di intermediazione finanziaria garantisce l'utente e l'acquirente, perché nel caso in cui c'è qualcosa che non va, basta aprire una procedura di reclamo per cui alla fine si ottiene il rimborso non solo di quanto è stato pagato, ma anche delle eventuali spese di spedizione. Oppure possiamo chiedere e insistere di fare un pagamento con trassegno, quindi un pagamento nel momento in cui il bene ci viene consegnato. La regola principale comunque è quella di non fidarsi, assolutamente. Una caratteristica principale della rete internet è quella dell'anonimato, per cui noi quando ci interfacciamo con la rete per qualsiasi tipo di operazione vogliamo fare, non sappiamo mai con chi abbiamo a che fare. Abbiamo un filtro davanti che non ci fa rendere conto effettivamente se abbiamo a che fare con una persona che è effettivamente quello che dice di essere, per cui mancando questo elemento che invece noi abbiamo nella realtà, dobbiamo partire sempre dal presupposto che non ci dobbiamo fidare. E poi un'altra cosa fondamentale è quella di non cercare l'affare a tutti i costi, perché se noi ci predisponiamo nel cercare l'affare a tutti i costi, già siamo a un punto di partenza per essere truffati, quindi valutare, fare delle valutazioni e quindi affidarsi al buon senso. Sono sempre più numerose le truffe online, specie oggi che sono saltati completamente i confini geografici. Il mondo è a portata davvero di smartphone, a portata di un mouse, di un pc. Questo rende ancora più complicato, complesso, difficile e laborioso l'intervento della Polizia Postale, ma anche di tutte le altre forze dell'ordine. Un altro fenomeno molto, diciamo, rilevante e che riscontriamo spesso nelle denunce che prendiamo nei nostri uffici è quello relativo al trading online. Il trading online è una forma di truffa, è una truffa, un particolare tipo di truffa e consiste nell'investimento in grosse somme di danaro su cosiddette piattaforme di trading online. Le piattaforme di trading online sostanzialmente sono piattaforme attraverso le quali si può procedere all'acquisto di criptovaluta oppure fare delle operazioni in criptovaluta. Chiaramente esistono delle piattaforme autorizzate ad operare nel settore, ma ci sono altrettante piattaforme con cui noi possiamo impatterci e che non sono quelle autorizzate ad operare nel settore, ma sono gestite da truffatori, da associazioni criminali che lavorano in questo senso. Il trading online è un fenomeno molto pericoloso perché quando la persona, la vittima, si rende conto di essere incappata in una truffa ha investito somme di denaro che sono veramente rilevanti perché chiaramente già è l'attività di per sé, l'investimento che porta comunque ad investire delle somme di denaro rilevanti. Se poi questi investimenti sono investimenti truffaldini e che vanno avanti nel tempo, perché poi queste sono relazioni finanziarie che vanno avanti nel tempo, sostanzialmente alla fine quando ci si rende conto che comunque si è subito un reato, in pratica si registra la perdita di grosse somme di denaro e in genere la vittima si rende conto di essere incappata in una truffa quando comincia a maturare l'idea di monetizzare quello che ha guadagnato richiedendo anche il capitale versato. Quando si fa questo tipo di richiesta sostanzialmente succede che la restituzione delle somme di denaro viene condizionata al pagamento di ulteriori somme, chiaramente si inizia una trattativa che va avanti anche questa per parecchio tempo, fin quando appunto la vittima alla fine comprende di essere stata raggirata e quindi a quel punto sostanzialmente si porta nei nostri uffici per fare denuncia. Le attività investigative in questo campo sono molto particolari e sono anche molto difficili, perché le piattaforme di trading online sostanzialmente sono piattaforme che sono allocate all'estero, vengono registrate da società che hanno sede all'estero su server che comunque si trovano all'estero e sono gestite da società estere e infatti la maggior parte delle volte, diciamo il 99% delle volte i pagamenti che vengono fatti dalle vittime di questo reato sono pagamenti verso IBAN esteri, quindi sono tutti elementi che per essere attenzionati a livello investigativo purtroppo hanno bisogno di un'attività di rogatore internazionale da parte della magistratura, quindi di un istituto particolare che viene attivato appunto dalla magistratura, proprio perché noi come forza di polizia possiamo fare attraverso gli organismi e le polizie di altre nazioni, ma comunque abbiamo bisogno di provvedimenti della magistratura e quindi di particolari procedure e quindi non siamo autonome nelle attività investigative in questo campo. Senti Alessandro, in questa causa dobbiamo attenerci molto ai fatti, dobbiamo studiare bene tutta la documentazione del nostro cliente, mi raccomando eh. Scusale ma ti devo lasciare, ho ricevuto un'email dalla banca. Sì, ci sentiamo dopo, ciao. Aspetta in linea, guarda oggi quant'è una boccata al trucchetto del conto bloccata. Il prezzo rimane lo stesso, è quello che abbiamo concordato. Ok, vado con l'upload. Sto scaricando i dati. Avviene noi via! A questa metodologia, ultimamente noi abbiamo verificato che se c'è stata una variante, e questa variante è stata registrata appunto nella provincia di Terramo in modo particolare. In pratica, mentre l'utente sostanzialmente sta facendo questa procedura, viene in pratica raggiunto da una telefonata e in questa telefonata c'è qualcuno che si qualifica come direttore dell'istituto di credito o addirittura come un operatore di polizia e induce la vittima a recarsi personalmente presso lo sportello dove ha il conto e a effettuare altre operazioni e praticamente a svuotare il conto mettendo e facendo un bonifico di quella somma su una carta i cui estremi gli vengono comunicati per telefono con la promessa che successivamente questi soldi poi gli verranno restituiti attraverso un bonifico. Chiaramente la vittima viene convinta a fare questo perché si adducono sempre motivi di sicurezza relativi alla custodia del proprio denaro. Si dice, guarda, ti conviene farlo perché il dipendente che sta lì e che lavora lì in quell'istituto di credito è un poco di buono, sicuramente ti ruberà i soldi, quindi ti conviene toglierli dal tuo conto metterli, appoggiarli in via provvisoria su questa carta e poi noi ti faremo un bonifico tra qualche giorno. Ora, che è successo? È successo che grazie all'intervento dei nostri colleghi di Teramo grazie alla collaborazione tra i nostri colleghi e alcuni direttori dell'istituto di credito tre o quattro di queste vicende sono state sventate nel senso che si tratta solo di tentativi perché l'operatore dello sportello a cui si è rivolta la vittima si è reso subito conto che c'era qualcosa che non andava e quindi vedeva un signore o una signora che era al telefono che riceveva istruzioni per telefono che poi chiedeva di spostare grosse somme dal conto e fare un bonifico verso un IBAN particolare e l'operatore dello sportello in quel caso ha allertato il direttore dell'istituto di credito il direttore dell'istituto di credito preallertato dai nostri colleghi attraverso un'attività diciamo di prevenzione che è stata fatta appunto dai nostri colleghi e chiaramente sono intervenuti i nostri colleghi che hanno fatto comprendere a quella persona a quelle persone che erano vittime di una truffa per cui diciamo questi tentativi sono stati sventati io devo dire che da questo punto di vista devo ringraziare forse l'ordine perché da qualche periodo a questa parte c'è un'intensa attività specialmente in alcune strutture proprio strutturate per la Polizia Postale c'è una forte intensità o per altri aspetti non legati alle comunicazioni e anche ai carabinieri c'è una forte attività di informazione e sensibilizzazione quindi una delle cose che io considero di fare se non si hanno strumenti di conoscenza è quella di andare sul sito della Polizia Postale e verificare per la tipologia dell'attività che uno vuole andare a svolgere far l'acquisto di un biglietto ferroviario anziché vedere le istruzioni per l'uso che queste istituzioni danno anche perché sono aggiornate in tempo reale perché ormai la velocità nel cambiare truffe è tale che la risposta deve essere adeguata e queste istituzioni riescono a darla perché hanno subito contezza di quando si sta muovendo qualcosa perché la percepiscono perché ricevendo le denunce si rendono conto che si sta muovendo una certa tipologia di truffa Abbiamo ascoltato finora i principali consigli per difenderci dalle truffe online ma ci sono anche le frodi informatiche le truffe telefoniche ci sono altre regole che vi vogliamo sintetizzare con questa tabella innanzitutto fermo restando che non dobbiamo fidarci dobbiamo tenere presente che nessun istituto di credito chiederà mai le credenziali via email o sms ai propri clienti per qualsiasi dubbio bisogna contattare subito la nostra filiale prima di fare qualsiasi operazione e in caso di telefonate apparentemente provenienti dal nostro istituto di credito oppure da un ente pubblico oppure da un ufficio di polizia chiedere sempre il nominativo dell'operatore con cui stiamo parlando poi riattacchiamo e contattiamo direttamente l'ufficio per accertarci di quanto ci è stato riferito per telefono questo perché è sempre più frequente il ricorso da parte dei criminali informatici ad un metodo che si chiama spoofing telefonico attraverso il quale questi criminali mascherano il numero di telefono usato in modo da farlo risultare come il numero dell'istituto di credito della persona a cui telefonano oppure l'ufficio di polizia o addirittura un ente pubblico Il commissariato di PS Online è un commissariato virtuale che viene gestito dal nostro servizio quindi dal servizio della Polizia Postale e delle comunicazioni a Roma ed è un commissariato al quale si può accedere tranquillamente attraverso qualsiasi motore di ricerca è molto importante perché anche lì possiamo trovare delle informazioni su quelle che sono le tipologie di truffe diciamo in voga al momento e quindi trovare e rendersi conto se c'è qualcosa che possiamo fare per evitare di rimanere vittima di determinati comportamenti infatti nel commissario di PS Online sono descritte diciamo le varie metodologie di truffe e di frode informatica e tutto ciò che può interessare appunto l'utente della rete si possono fare anche delle segnalazioni si possono fare anche delle denunce sul commissariato di PS Online e la denuncia che viene fatta però diciamo su questo commissariato virtuale poi deve essere comunque ratificata e formalizzata in un ufficio di polizia sì sì il nostro viaggio nel web criminale questa sera finisce qui ma ci torneremo molto presto perché i criminali virtuali non vivono solo di truffe online o di frodi informatiche purtroppo nel mondo virtuale si consumano reati gravi gravissimi contro la persona e spesso si incappa in conseguenze purtroppo davvero irreversibili ne parleremo molto presto ma questa sera ci fermiamo così ci fermiamo qui io vi ringrazio come sempre per aver seguito questa puntata di Occhio Oltre la Cronaca e come sempre ci vediamo giovedì prossimo a Grazie a tutti. Grazie a tutti.